ciao ragazzi ciao ragazze come va nel video precedente abbiamo visto il periodo ipotetico del primo tipo o della realtà in questo video vedremo il periodo ipotetico del secondo tipo o della possibilità on my previous video we talk about the periodo ipotetico first type il primo tipo questo periodo ipotetico viene utilizzato per esprimere un'ipotesi possibile qualcosa che può sia accadere o anche non accadere ancora non lo so non è sicura quindi le conseguenze sono possibili non sono certe this periodo ipotetico del secondo tipo is used to express a possible hypothesis something that can happen could happen but also couldn't happen I don't know yet ok questo periodo ipotetico si forma con se più congiuntivo imperfetto e condizionale presente how do we form this we use se più congiuntivo imperfetto on the first clause and condizionale presente on the second clause il congiuntivo imperfetto è facessi io facessi tu facessi noi facessimo io andassi noi andassimo se avessi se fossi fossimo mentre condizionale presente potete vedere un mio video e sotto nei commenti lo scrivo vedrete il link ora vediamo qualche frase qualche esempio del periodo ipotetico della possibilità se venissi alla mia festa ti divertiresti un sacco quindi se venissi se più congiuntivo imperfetto ti divertiresti divertiresti condizionale presente il fatto potrebbe accadere se tu venissi alla mia festa succede che ti divertiresti ok so it could happen if you if you came to my party you would have fun it could happen but you have to come to the party se andassimo a roma vedremmo il colosseo c'è la possibilità di andare a roma quindi anche di vedere il colosseo se facessimo più sport saremmo più in forma anche qui c'è la possibilità di fare più sport dipende da noi it's up to us if you want to do more sport or if you want to go somewhere for example if you want to go to roma this way we'll see the colosseum or if we do more sport will be in shape it's up to us se ti svegliassi prima saresti in orario dipende da te il fatto di svegliarti prima quindi è possibile se nevicasse andrei in montagna a sciare in questo caso potrebbe nevicare quindi è possibile non è potrebbe succedere questa cosa vediamo altri esempi se vincessi alla lotteria comprerei una villa se studiassi prenderei un bel voto quindi vedete se vincessi congiuntivo imperfetto studiarsi congiuntivo imperfetto mentre comprerei è condizionale presente prenderei condizionale presente se trovassi un lavoro guadagnerei dei soldi se avessi dei soldi comprerei quel vestito se uscisse il sole andrei a correre se smettesse di piovere uscirei con la bicicletta se venissi da me stasera ti preparerei una buona cenetta bene finora abbiamo visto degli esempi reali di qualcosa che può succedere delle conseguenze che possono succedere realmente che sono possibili all these examples that we've seen imply a possible consequence something real that can really happen adesso vediamo alcuni casi perché ci sono dei casi in cui l'ipotesi è impossibile è reale cioè la frase subordinata introdotta da se è impossibile è già impossibile è qualcosa che non può succedere che è o io penso che sia al di fuori della realtà perché anche se si chiama periodo ipotetico della possibilità non significa che l'ipotesi sia realmente realizzabile ma solo che io la presento teoricamente come possibile nella mia testa solo nella mia testa sometimes the hypothesis is not possible it's unreal it can't happen it's not feasible only my head could happen so even if it's called periodo ipotetico of the possibility della possibilità sometimes it can't happen let's see some examples vediamo qualche esempio se fossi un'aquila volerei ma io non sono un'aquila è impossibile quindi non volerò mai I'm not an eagle so it can't happen se fossi uomo sposerei quella donna but I'm a woman so it's not possible io sono una donna quindi non è proprio possibile è irreale se fossi alta sarei una modella ma non è possibile perché sono bassa I'm sure so it won't happen se fossi in lei accetterei l'offerta di lavoro ma io non sono lei quindi è impossibile se fossi in te andrei subito da lui ma io non sono te e quindi non è possibile neanche questa molto spesso utilizziamo questo periodo ipotetico per dare consigli quindi se fosse in te farei questo se fossi in te andrei la eccetera se fossi ricca comprerei una barca se non costasse così tanto comprerei quell'auto ma l'auto costa tanto e quindi non la posso comprare ok attenzione non sono corretti in nessun caso né l'uso del condizionale nella frase subordinata introdotta da sé quindi se potrei ci andrei no sbagliato se potessi ci andrei e neanche l'uso del congiuntivo nella frase principale se potessi ci andassi sbagliato se potessi ci andrei ok ok so it's wrong when you use the conditional on the subordinate clause the one introduced by if se potessi ci andrei wrong se potessi ci andrei se potessi ci andrei and the use of the congiuntivo imperfetto and the main clause se potessi ci andassi wrong se potessi ci andrei molto bene spero che la lezione sia stata utile I hope this lesson was helpful if you have any questions spread them on the comments e grazie ci vediamo nel prossimo video ciao ciao